Pronte ad iniziare con questo nuovo video ed andare a scoprire che cosa succederà durante tutta una settimana intera? Naturalmente vi chiedo quello che vi chiedo sempre, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e soprattutto lasciatemi un like perché è un vostro pensiero che non costa nulla a voi, ma che a me serve moltissimo. Nella puntata di martedì 11 aprile vedremo Chetín che continua a corteggiare Gulten. Lui è innamoratissimo della ragazza e anche lei di lui, ma come sempre Gulten rifiuta il suo amore, rinunciando anche al proprio, perché non riesce a fidarsi dopo quello che le è successo precedentemente con Erkumet. Nel frattempo Fadik si brucia accidentalmente mentre sta accendendo il fuoco fuori dalla villa e viene soccorsa immediatamente da Chetín e Mujigan. Dall'altra Zuleila è rimasta a piedi con la sua auto a causa di un malfunzionamento e Ilmaz, che arriva proprio sulla strada dietro di lei, la vede lì da sola e dopo aver provato ad aggiustarle l'auto e ha visto che richiede proprio una carrozzeria, si offre di darle un passaggio almeno fino a casa, ma arrivati insieme in villa vengono visti da tutti. E ciò mandi embesti a Demir che non esitano a chiedere spiegazioni ai rispettivi partner. La zia di Mujigan invece tenga ancora di abbindolare Fekeli. Attirando la sua attenzione e il suo intento in questo momento è solo quello di fare ingelosire il più possibile la sua rivale Unkar, nonché compagna di Fekeli. E diciamo che ci riesce pienamente, in quanto Berica svela a Unkar di aver notato un certo feeling tra Fekeli e Beice. Julide invece in questo episodio viene a sapere che Sabatin ha finalmente ottenuto il divorzio che voleva, mentre Beice continua a cercare di conquistare Fekeli con la scusa della caviglia slogata. Invece Fadik fa un regalo a Cetin, senza dire nulla però a Gulten perché lei ne è infatuata segretamente. Successivamente, mentre tutto sembra essere tranquillo, l'intera cittadina di Kukurova si trova davanti a una notizia sconvolgente. Sul giornale locale, infatti, è stato pubblicato un articolo su Unkar Yaman e Ali Hramek Fekeli, accompagnato da una foto, che ritrae in due in un momento in cui sono in dolci effusioni d'amore. Quando Demir il figlio viene a saperlo, rimane sconvolto e soprattutto deluso, oltre che furioso. Nella puntata di mercoledì 12 aprile, vedremo che Demir non vorrà proprio più sapere nulla di sua madre, non la vorrà più vedere, né tanto meno averla in casa, quindi la esorta ad andarsene dal suo amato Fekeli. Unkar, accanto suo, è più che convinta che dietro a quest'articolo ci sia lo zampino di sua nipote, Sermin. E come aveva temuto la matriarca, la notizia si diffonde immediatamente a macchia d'olio tra tutti i cittadini di Kukurova, mettendo così in cattiva luce la sua signora. Quando Fekeli legge l'articolo sul giornale, promette di trovare presto i responsabili per fargliela pagare, vendicandosi di ciò che hanno osato fare, e cioè di mettere la loro storia d'amore di lui e di Junker sotto i riflettori, mentre loro la tenevano ben segreta solo per loro. Alira mette su tutte le furie, come lo vediamo poche volte nella serie, ma fortunatamente Ilmaz e Musiker riescono a tranquillizzarlo e una volta ritrovata la calma decide di raccontare la loro storia d'amore dal principio, il suo figlioccio e ha sua moglie. Dall'altra parte Azize accusa un malessere improvviso e viene trasportata immediatamente in ospedale. Il braccio destro di Unkar, se così si può chiamare Sani, corre ad avvisarla e Unkar, pensando che sua madre stesse per perdere la vita, si appresta a raggiungerla di corsa. Arrivata in ospedale vede suo figlio Demir, che ovviamente non vuole né vederla né parlarle. Nella puntata del 13 aprile invece la nonnina Azize sarà ancora in ospedale e infatti i dottori gli hanno dovuto fare degli esami per accertarsi delle sue condizioni di salute. Successivamente Fekeli prende la decisione e il coraggio a questo punto di chiederla mano a Unkar. Si reca quindi da lei e le fa la proposta di matrimonio davanti agli occhi di tutti, compreso Demir. Lo Yaman non ci vede più dalla rabbia, quindi, come al solito, minaccia Fekeli e il suo figlioccio. La situazione si scalda, infatti Sabatin è costretto a dividerli. Pujigan invece, quando scopre che Sabatin ha intenzione di andare via, lo supplica di non lasciarla sola e abbandonarla. Demir nel frattempo in villa dà fuoco a tutti gli oggetti di Unkar. Non vuole proprio più vederla, tuttavia, il suo piano ancora non è terminato. Eccoci arrivati a venerdì 14 aprile. Unkar e Fekeli saranno sotto i riflettori di Cucurova con le loro nozze. Quindi, da un lato ci sarà l'appoggio della gente del paese alla loro unione e dall'altra la controversia delle famiglie. La nonnina viene trasferita in un altro ospedale per volere di Demir e quando Unkar lo viene a sapere è costretta a vivere un altro turbamento. Al contempo anche Ilmaz sarà furibondo, infatti per lui Fekeli l'ha tradito e prende la decisione di dargli indietro le chiavi della villa e dell'azienda. Mentre Sabatin fa di tutto per far ragionare Ilmaz, ma in vano, senza avere risultati. Nell'episodio di sabato 15 aprile Zuleila cercherà di capacitare suo marito Demir che ciò che ha fatto nei riguardi di Azize e Unkar è un dispetto, non solo a sfavore della madre ma anche, purtroppo, per la nonnina. Demir non vuole ascoltare nessuna ragione, mentre Gaffur e Saniè, per non perdere il loro lavoro, devono mostrarsi a lavorare a favore di Demir e quindi giurare la loro fedeltà nei suoi confronti, mentre il figlio letto di Demir e Zuleila, Ada, pronuncerà per la prima volta la parola papà. A chiudere la settimana sarà l'episodio di domenica 16 aprile in cui vedremo che Unkar lascerà la tenuta per volere di Demir, il quale non le dà nemmeno la possibilità di andare a trovare la nonnina. Unkar quindi prepara tutte le carte necessarie per il loro matrimonio e inoltre viene anche bandita dall'azienda di Demir. Sermini invece in questo episodio getta ancora di più fuoco sull'incidente questione di Unkar e Fecheli, rivelando alla stampa ciò che le ha confidato Beice. Infatti, Beice dice a Sermini di essersi accorta di una certa attenzione da parte di Fecheli nei suoi confronti. La povera Gulten dall'altra parte viene rapita da Cetin e a quel punto Gulten gli rivela ciò che le è accaduto a causa di Erkumet, ma senza fare nomi. Zuleila non dice a nessuno che Adner ha pronunciato per la prima volta la parola papà in presenza di Ilmaz. Tuttavia Gafur, che aveva sentito dire questa cosa, riferisce a Demir ciò che Zuleila non voleva far trappellare e Zuleila ovviamente costretta a negare. Nasire invece fa recapitare a Gulten la proposta di matrimonio da parte di Rustem, consegnandola a Sany, la quale non esita a mandarla indietro senza neanche fargliela vedere alla ragazza. Gafur invece è sempre alla presa con il bestiame, in modo tragicomico, come ormai siamo un po' abituati a vederlo. Le anticipazioni di questa settimana sono terminate qui e se ti è piaciuto il video lasciami un tuo like e iscriviti al canale attivando la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.